All'emiciclo giornata di consiglio comunale oggi tra le varie interrogazioni ce n'è una di particolare importanza perché tocca un tema di attualità che tiene la città con il fiato sospeso dopo la sentenza a sciocco del giudice Croci che ha segnato un 30 per cento di colpa alle vittime del crollo di una palazzina di via Campodifossa a presentarla Simona Giannangeli del gruppo L'Aquila Coraggiosa riguarda il pagamento delle spese legali ai familiari delle vittime del crollo dell'edificio per lei il comune in questa situazione non ha avuto buon senso di qui l'interrogazione. A seguito della sentenza della dottoressa Croci che è stata resa da questo tribunale civile nel mese di ottobre 2022 il comune ha avuto il riconoscimento delle spese legali perché assolto da qualsivoglia responsabilità rispetto alle vicende dell'edificio sito a via Campodifossa. Ora siamo in una fase assolutamente provvisoria perché abbiamo una sentenza di primo grado che è provvisoriamente esecutiva. Il comune dell'Aquila avrebbe ben potuto astenersi dal richiedere ai familiari delle vittime il pagamento delle spese semplicemente perché siamo appunto in una fase ancora transitoria nel senso che ci sarà un grado di appello ci potrebbe essere un grado di cassazione e il comune non avrebbe provocato alcun danno erariale alla propria amministrazione se avesse atteso come spesso si fa il completamento dell'intero procedimento perché la sentenza di primo grado resa da questo tribunale provvisoriamente esecutiva è stata già appellata quindi potrebbe essere confermata come ribaltata. Questa sentenza potrebbe poi a sua volta andare in corte d'appello quindi la mia interrogazione va nel senso di chiedere e di avere chiarimenti rispetto al perché il comune ha inteso muoversi così rapidamente quando decoro rispetto per le vittime dignità sostegno ai familiari di chi già tanto perso avrebbero potuto portare il comune ad una scelta differente. Il comune in sostanza ha chiesto diciamo il riconoscimento delle sue spese? Sì il comune chiede di essere pagato e chiede di essere pagato per le spese che la sentenza ha riconosciuto a sua volta bisogna dire che il comune è stato condannato a pagare le spese per aver comunque citato a sua volta in giudizio gli eredi delle famiglie dei costruttori.